Domenico, il pareggio quasi questo, posso dire che sta anche stretto? Stretto, però sono una buona squadra, potevamo vincere, potevamo perdere, alla fine abbiamo pareggiato, secondo me è un buon pareggio perché abbiamo incontrato una squadra forte, un pareggio perché nell'ultimo partito abbiamo cercato di fare più punti possibili, perché le partite diminuiscono e i punti diventano importanti per i play-off. Vincerevamo prima con il mister un po' senza così aggressivo, non lo venivamo da tempo, è cambiato qualcosa in queste settimane? No, non è cambiato perché alla fine siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi, è che prima è la verità, facevamo tutta la partita a mille come oggi, invece nelle ultime partite un po' ci è mancata, un po' il primo tempo una volta, un po' il secondo tempo un'altra, ci è mancata, infatti oggi abbiamo parlato con il mister, se volevamo portare a casa i punti di dare il 100% tutti e alla fine abbiamo fatto. La prestazione con la giudica, oggi ti abbiamo visto finalmente, hai spaccato tanti palloni davanti alla difesa, vi siete un po' tutti sacrificati? Sì, alla fine con il tempo è difficile un po' giocare il pallone, quindi devi cercare di adattarti al tempo, al campo e abbiamo dovuto, come dice lei giustamente, rompere e fare l'ottura in mezzo al campo e credo che ci abbiamo fatto perché tutti ci siamo sacrificati e tutti abbiamo andato al 100%. Tre partite importanti, una settimana, un'opoli, dopo di nuovo in casa, in un giro di sette giorni, tre partite che possono un po' riacganciare quel punto posto che significherebbe anche quarto, perché poi non era la fine, già nel play-off, significherebbe partire in quarto nel play-off. Sì, giustamente noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili, più stai su e hai più possibilità di passare per il play-off, noi ci diamo il massimo e cerchiamo di arrivare più in alto possibile in queste ultime partite e cerchiamo di fare più punti. Grazie Così, basta? A posto, grazie. Grazie.